No! Ma che stai a fare? Scopo! Che stai a fare? Scopo! Che stai a fare? Scopo! Ma dove? Lo scopi? Eh, la cucina! Come scopi tu? Che hai cercato? Eh? Che stai a cercar? Col coltello! Che era un coltello! Che c'era a fare? Per tagliare il prosciutto con quel pezzo di cazzo? Ma che vuoi tagliare? Che c'è fai col coltello? Oh! Oh no! Che c'era io il prosciutto! E dopo? E dopo? E dopo lo butto via! E poi? E poi? E vaffanculo va! Oh no! Ma dov'è stai a cercare? Chissà dove starà? Il vero Umbrici a merenda fa pane e prosciutto così tagliato? No! Tu sei un testo di cazzo! Fermi te! E fatti tutte le scalette! Ma che scaletto fai? Vattene fai a me piacere! Ma che ho fatto scusa? Tu un furtello dalle mani e le la pia! Lo sto a tagliare verso... Tu non le hai tagliato il prosciutto che non sapono! Come ora fai? Ma come quella fai? Si taglia così pian piano! La fettina! Non i tocchi! Ma questo viene bene perché praticamente tu assaggi il sapore e tutto il gusto del... Fermi te! E adesso sta fermo! Ti ho dallevato i coglioni! Ma perché? Mannaggia! Mi posso arrabbiare! E io mi devo arrabbiare come uno stronzo c***o! Oh no! Fa una carezzina dal gattino! Cita il cazzo! Fai una carezzina! Ah che sega! Fai una carezzina dal gattino! Oh! Io mi rompo tanto i coglioni! Ma il gattino tuo! E tu ti lo scappa! No no no! Le minacce no! E allora... Vieni vieni micio! Micio! Chiamalo meglio! Vieni vieni! Vieni ste c***o! Cercalo! Chiamalo! Sì chiamalo! Ma che stai fa? Sto fa che... Sto pia... Che stai pia? Sto c***o di qui! E mette sta cintura! Quanto ci vuole? Eh? Oh! Quanto ci vuole? Oh! Ma non tanti c***o! Oh! Ma quello che vuole? Cosa fa? Eh che stai rontolato qui? Ma cosa hai portato al c***o del mercato? Mante d'agusto fa il giro della rotonda! Mannaggia il c***o! No no fai fai... Ma io apro scendo! No le minacce no! Vabbè allora smettila di mirare qui! Mante d'agusto! Mannaggia il c***o! No 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 no!